E adesso abbiamo aperto la rassegna con Marsaglia e con cosa la chiudiamo? Non si può chiudere in miglior modo che chiuderla sempre con Marsaglia perché Marsaglia ha due cori ben affiatati ma distinti uno sono le vecchie glorie, anzi le grandi glorie che avete sentito e che risentirete poi al secondo giro e gli altri sono i giovani, sono il futuro di Marsaglia signori il coro giovane di Marsaglia e guardate un po' come si presenta, guardate un po' ci vuole un applauso nell'applauso, i giovani di Marsaglia grazie, mettetevi pure a posto e adesso vi dirò qual è la prima esecuzione di questi ragazzi mi raccomando state vicini, il più vicino possibile cominciamo con Milena io non so il contenuto, di cosa racconta Giovanni Milena? racconta di? una bambina una bambina? Beh già tanto allora la dedichiamo a tutte le bimbe, a lei Milena scommetto sì, bene, allora il giovane coro di Marsaglia in Milena, vai passo un tempo tristemente finché un piocco trovò la gente suo padre gli consente di cantare all'orcodri l'amore è una catena l'amore è una catena nel sol la può spezzare ti voglio tanto bene se tu vuoi bene a me che triste il cuore ci lasceremo vicino a te Milena passo un tempo tristemente quando un piocco trovò la gente il suo padre gli consente di cantare all'orcodri o dolce la mia Milena di me non discordare l'amore è una catena l'amore è una catena o dolce la mia Milena di me non discordare di me non discordare l'amore è una catena nessun la può spezzare ti voglio tanto bene se tu vuoi bene a me che triste il cuore ci lasceremo vicino a te Milena sono loro, sono bravi, sono eccezionali sono i giovani del coro di Marsaglia veramente bravi ma che belle voci grazie 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 grazie